il battito nelle corde di alessandro mischi capitolo 1 dai campi da tennis ai campi di concentramento ognuno di noi nasce da un vincitore eppure siamo tutti dei perdenti tutte le vite sono uguali all'inizio e alla fine una vittoria è una sconfitta nel mezzo l'esistenza sì perché tra migliaia di gameti solo uno è vincente un minuscolo spermatozoo riesce a sopravvivere e a fecondare l'ovulo ottiene come premio per la vittoria la vita per poi avere come unica certezza quella di perderla forse è proprio per questo che siamo ossessionati dall'idea di vincere vincere sempre comunque e prima di ogni altra cosa vincere la guerra vincere le olimpiadi vincere un titolo vincere una corsa vuole vincere il podestà come l'arrotino vogliamo vincere una donna che sia dalle parti del cuore o della gloria del portafoglio o del terreno vorremmo sempre vincere per dimenticare che il nostro destino è quello di una sconfitta la morte non si vince soltanto uno ci è riuscito ma era il figlio di dio ogni mattina questo stesso pensiero mi percuote come lo stock il rumore secco di una racchetta mentre colpisce una pallina tutte le mattine con quel rumore nei timpani e quel pensiero siamo tutti condannati a morire eppure l'umanità si scanna con le guerre per accelerarne la riuscita quando si alza il sole sul cielo di chemnitz quel pensiero di morte non fa che percuotermi come un infarto acustico forse perché anche l'aurora fa schifo qui in sassonia un sole lattiginoso che non scalda una luce anemica su persone ormai trasparenti io peso meno di 50 chili e quando vado a dormire non riesco a trovare la posizione perché non c'è carne tra le ossa delle spalle e il legno del giaciglio di 400 militari italiani siamo rimasti in vita la metà e ogni giorno che passa ne cascano a terra non so quanti come un tabellone di un torneo di tennis ogni giorno ne restano in gara la metà eliminazione diretta solo che qui alla fine non si vince niente si è certi soltanto di perdere si rimane in un campo non da tennis ma di concentramento unicamente per assistere alla propria sconfitta ecco il mio nuovo circolo il concentramento lager solo che qui non ci sono i campi in erba o in terra rossa ma capannoni ricoperti di melma sanguigna si va nelle gallerie come topi lungo i canali delle fogne e ai piedi si calzano non le scarpe morbide di tela mazzoccoli grossi e pesanti che ti martirizzano i vestiti non sono le magliette immacolate ma rimasugli di indumenti stracciati impregnati di unto e carichi di polveri di ghisa che tiraschiano la pelle a ogni passo fino ad arrivare all'anima già non c'è più carne intorno agli scheletri gli uomini sono figure irreali ombre tremolanti sagome fosche e silenziose ecco i miei compagni di circolo tante anime in attesa di trapassare nel regno dei morti qui si gioca ad assistere alla propria sconfitta qui si gioca a procrastinare a temporeggiare a rimandare quello che il destino ha scelto per te diventare in breve materia organica che finirà per imputridire beh io da giocatore ero maestro nel ritardare la mia sconfitta quando in un torneo di tennis ero sotto nel punteggio mi mettevo da fondo campo a rimandare tutto ciò che potevo e in quelle risse di terra rossa sudore e polvere quante rimonte ho fatto quante partite ho vinto che incontri indelebili ricordi di lotte e vittorie il corpo proteso in allungo la pallina che sta per ritoccare terra invece no te la rimando ancora di là brutta carogna non mollare patrizio non mollare mai mi ripetevo a ogni colpo e a ogni stock della palla scandivo il tempo un altro stock dai forza sono ancora vivo perché ogni partita per me era questione di vita o di morte se perdi il tuo nome verrà cancellato dal tabellone equivale a morire no se invece vinci arrivi a premio già a premio qui però non si va a premio come in un torneo di tennis qui c'è solo il desiderio di spostare un po' più in là l'ora fissata dal destino dello stock del colpo musicale di tennis fra palline e racchetta non c'è nulla il tennis come adoravo giocare a tennis l'unico ricordo che mi dia sollievo ecco allora anche l'alba mi piaceva perché voleva dire che dopo poco sarei andato a giocare a tennis sui campi del circolo tennis di sanremo il tennis sì primo è temo unico grande amore della mia giovane e temo ancora di più breve vita non credo che riuscirò a scampare a questo campo di lavoro per conoscere l'amore per una donna ho conosciuto le donne prima di partire grazie ai casini ma l'amore vero quello che ti percuote l'anima è il cuore ancora no e chissà se farò in tempo da assaporarlo invece il tennis sì quella sì che è stata una bella cotta non vedevo l'ora di giocare di dirigere i miei sogni con la racchetta come il direttore d'orchestra la sua musica il tennis è musica anzi è arte è più di uno sport è connubio tra danza musica e pittura la danza dei passi leggeri e veloci che scattano e frenano per culminare con una scivolata l'armonia del gesto come il pittore fa scorrere lieve e veloce il pennello sulla tela per poi caricarne i colori con colpi colmi di energia come un uomo accarezza il volto di una donna attirando a sé il suo corpo con bramosia e desiderio così il tennista accarezza o colpisce una pallina a tempo di un ritmo musicale è arte è arte poche storie quando riesci ad attutire il più violento dei diritti del tuo avversario con una volé di rovescio che fa smorzare la pallina all'angolo opposto della rete questa è poesia sportiva e tu ti ritrovi con una penna una bacchetta e una racchetta contemporaneamente in mano sei un artista del gesto sei cantore della capacità di gestire il tuo corpo nello spazio e di dirigere un oggetto tondo in volo dove tu vuoi è arte è arte non è solo uno sport che sensazioni ricordo ancora il primo servizio vincente da destra a sinistra con un effetto tagliatissimo è l'avversario che non riesce a spiorare la pallina ricordo ancora poco più che bambino le prime volé una carezza morbida sul velcro della pallina e quella cicciottella bianca si affloscia al di là della rete imprendibile e spettacolo non avevo una racchetta ma una bacchetta magica mi sentivo un mago e la gente dai gradoni del circolo sopra il campo centrale applaudiva il ragazzino prodigio già il prodigio invece qui si sta alla fresa e al trapano tutto il giorno dalle sei alle diciotto e a pranzo zuppa di verdure zuppa di ortiche pane raffermo e scariche di dissenteria che ti uccidono altro che magia che prodigio piattole e topi dappertutto molti topi se li mangiano ma io non ce la faccio proprio di solito dopo aver finito quel poco di burro che ci danno uso la carta a mo' di brillantina me la passo sui capelli per tirarmi l'indietro ma una notte mi sono svegliato con un topo che mi leccava i capelli quando l'ho raccontato a quelli del mio stalaghi il 4b qualcuno si è anche arrabbiato potevi prenderlo che ce lo saremmo mangiato coglione mi ha urlato un veneto no 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 i topi no almeno non ancora va bene bere dell'urina come è accaduto durante il viaggio per arrivare a questo campo di lavoro non ce la faccio magari più avanti quando quando la mia amica fame mi avrà privato di tutto ciò che di umano ancora mi rimane e io e lei siamo grandi amici e mi tiene sempre compagnia quella grande baldracca va con tutti però non ti abbandona mai è fortuna che giocando a tennis ho sempre avuto un fisico atletico quando dalla caserma di banne vicino a trieste ci hanno portato qui dentro vagoni blindati come degli animali i primi a morire sono stati proprio quelli che non avevano mai fatto nulla li ho visti subito spalle di curve torace stretto braccine sottili che al primo pezzo di ghisa da portare si piegavano in due le mie braccia invece erano forti allora avevo un destro che allenavo tutti i giorni a suon di diritti e rovesci contro il muro del circolo mentre solo con il sinistro mi sollevavo da terra per tre serie da 20 ripetizioni una perché braccio e spalla fossero simmetriche per fortuna essendo così robusto mi sono fatto subito rispettare quando ho dovuto fare accoltellate con un gruppo di prigionieri polacchi non mi sono tirato indietro vieni sotto che ti apro a mani nude brutto maiale ho urlato a un porco polacco grosso il doppio ma flacido lento di braccia gli ho dato due colpi in testa con un mulinello del braccio così veloce che se avesse avuto una racchetta in mano avrei fatto un servizio vincente il servizio l'ho fatto a quel porco una gragnola difendenti che se non mi avessero fermato l'avrei ridotto come una tagliata di manzo e me la sarei mangiata volentieri il topo no ma la carne di porco polacco l'avrei assaggiata volentieri perché se per il conte ugolino più che l'onor poté il digiuno e si è sbafato i suoi figli io una fetta di porco polacco avrei potuto mangiarla a cuor leggero oltretutto non l'avevo mai visto prima e da subito ci siamo stati sull'anima comunque l'ho battuto ho vinto io e così sono riuscito a prendermi io il premio un sacchetto di bucce di patate che tristezza che rabbia che pena fare accoltellate per un sacchetto di bucce di patate la fame ti tocca nel profondo dell'essere ed è così abbruttente che chi non l'abbia mai provata non lo può nemmeno immaginare e ora che sono passato dai campi da tennis ai campi di concentramento tutta la rabbia agonistica che avevo nel giocare mi aiuta a sopravvivere anche qualche buccia di patata può allungare la mia presenza in questo torneo della vita eliminazione diretta se me lo avessero detto quando a 14 anni andavo a scuola con l'autista e la lancia di mio padre gli avrei riso in faccia invece quattro anni dopo sono qui in questo lager a festeggiare ogni giorno il passaggio del turno di questo torneo che mette in palio solo una cosa la mia pelle sempre più bianca sempre più diafana con croste che telegratti fino a sanguinare però non mi ritiro col cavolo che mi ritiro come quando giocavo nei tornei e mi facevo male speravo sempre che capitasse qualcosa di peggio al mio avversario una volta ho vinto una partita anche se avevo una caviglia grossa come un melona mentre correvo lungo la riga di fondo sui campi in terra battuta del circolo tennis di alassio presi una storta tale che sentì il dolore fino alla punta della lingua se mi fossi tolto la scarpa non sarei stato più in grado di rimetterla invece presi la cintura dei pantaloni di tela la legai attorno alla caviglia e la fici passare sotto la pianta del piede corsi quasi su una gamba sola ma alla fine vinsi io perché con lo zoppo si gioca sempre male è una vecchia regola del tennis se cerchi di farlo correre facendogli palle corte vicino alla rete alla fine snaturi il tuo gioco ti deconcentri e non riesci a mettere lo zoppo in difficoltà e alla fine se non si molla mai e ci si adagia sulle scuse si riesce a vincere chissà magari mi riuscirà anche qui a chemnitz passiamo tutta la giornata nelle officine ad affilare metalli respirare polvere e a comporre elementi in ghisa pezzi che poi vanno all'auto union di dresda per diventare carri armati in pratica costruiamo pezzi di armi che faranno fuoco anche sui miei connazionali grazie al lavoro dei prigionieri la fabbrica di dresda di carri armati ha raddoppiato la produzione dicono il nostro lavoro fa macellare altre persone altri italiani l'esatto contrario del motivo per cui abbandonai i campi da tennis e partì volontario per la guerra nel 1943 volevo anche io dare la mia parte ma non ho neanche fatto in tempo a finire l'addestramento a luglio che il 9 di settembre ci siamo trovati carri armati dei tedeschi cannoni grandi così puntati contro l'ingresso della caserma se vi arrendete tornerete a casa ci dissero me lo sentivo che erano palle ma vallo a spiegare ad altri 400 militari molti dei quali semi analfabeti non ci faranno tornare a casa tanto vale combattere se abbiamo fortuna possiamo farcela nessuno mi ha dato ascolto alla parola casa nessuno ha capito niente invece con il senno di poi avremmo potuto combattere forse resistere certamente saremmo morti meglio e certamente saremmo stati sepolti in territorio italiano molti dei miei commilitoni invece non torneranno in italia neanche da morti un bombardamento sulla nostra fabbrica ha distrutto quella specie di camposanto che abbiamo costruito dietro lo stalag 4b quei poveri ragazzi sono morti due volte per ognuno di loro avevo cercato di fare almeno una bella croce di legno una volta adoravo il legno mi piaceva il profumo del legno di una racchetta nuova rigirarmela tra le mani come il violino per un musicista ogni racchetta nuova per me era come uno stradivari tutte avevano la loro custodia con i morsetti perché il telaio non imbarcasse come si dice in gergo però in un incontro di tennis oltre che al ritmo alla musicalità allo stock della pallina contro le corde vedevo anche qualcosa di ancestrale ci si ritrova uno contro l'altro con un legno in mano come agli alburi della civiltà solo che nel tennis non ci si randella nei denti anche se più forte colpisci più probabilità hai di fare punto si combatte ma non ci si ferisce e alla fine ci si stringe la mano invece adesso il legno mi ricorda soltanto quelle croci che con una pialla ho cercato di rendere più lucide possibili per dare onore a questi ragazzi una pioggia di bombe una notte ha fatto saltare tutte le baracche del nostro stalag e ne sono morti una cinquantina ho piallato altre piccole 50 croci invece che mangiare ho tagliato e lucidato il legno per fare le croci per riprendere le forze ho strisciato sotto i capanni ho rubato del cioccolato dalla baracca dei prigionieri inglesi lì sì che arrivano i pacchi della croce rossa da noi italiani invece nessuno ha ricevuto niente la cioccolata l'ho dovuta mangiare di nascosto mentre ho smerigliato le croci una volta sverniciavo così le racchette perché volevo che avessero il colore del legno e lo facevo sempre con gioia ridendo andavo a trovare a bussana vecchia giovanni il poeta bussana è un paesino alle porte di san remo sulle colline e con un panorama mozzafiato un terremoto alla fine del settecento lo ha parzialmente distrutto morirono quasi in duecento i sopravvissuti lasciarono il paese e da allora fu disabitato poi alcuni artisti scrittori oppositori del regime hanno cominciato a viverci una sorta di confino volontario però credo che loro ci stessero bene e io con giovanni mi trovavo proprio bene non si parlava mai di politica giovanni sapeva che mio padre era una camicia nera ma lo rispettava per mio padre la patria era tutto poi a pari grado c'erano la famiglia il senso del dovere la fede in dio giovanni rispettava tutto questo anche se lui voleva sentirsi sempre un uomo libero faceva il falegname ma vendeva anche i suoi versi bellissimi li firmava e a fronte e io non ho mai saputo perché cosa stesse quelli e a però era un uomo che mi dava tranquillità scriveva poesie bellissime e intarsiava il legno da lui ho imparato a conoscerne le venature a lucidare laccare e piallare il legno perché le mie racchette dovevano essere le più belle le più lucide ridevamo chiacchieravamo e io ero felice fu a giovanni che dissi subito la mia intenzione di partire volontario prima a lui che i miei genitori e giovanni mi regalò una racchetta bellissima una maxima il legno personalizzata con il tricolore che gli si attorciglia lungo il fusto un gesto gentile da parte di una narcoide come lui quando tornerai ti farà vincere qualcosa di importante mi disse chissà se sarà vero chissà che fine ha fatto giovanni chissà se ci rivedremo con erba gesso e sangue ho fatto delle tacche tricolori per quelle croci il sangue me lo sono tolto scrostandomi una ferita nel piede un male cane ma sono riuscito a non urlare e quelle croci le ho lucidate senza neanche riuscire a tirar fuori una lacrima amo troppo la vita ma non ho più traccia dei miei sentimenti o quantomeno non riesco più a piangere neanche quando ci frustano e la pelle della schiena resta attaccata i frustini urlo ma non piango neanche quando l'altro giorno mi hanno battuto come un polpo sul battilardo nel mercato del pesce di sanremo non avevo risposto all'appello e nel campo si era sparso il panico pensavano che uno dei prigionieri fosse fuggito non sono stato molto sveglio all'appello ma ci voleva anche un po' di immaginazione a riuscire a capire che un uert tutto aspirato e urlato corrispondeva al mio nome e cognome patrizio degli uberti il degli non lo hanno letto così come il nome e uberti era scritto così male che la b sembrava un h quando hanno chiesto a ognuno di noi di scandire il nostro nome e cognome è stato subito svelato il mistero e contemporaneamente un cazzotto mi ha sollevato da terra me ne hanno date tante con lo scudiscio quei capò maledetti ma almeno ora non si sbagliano a scandire il mio cognome è già una piccola soddisfazione oltre a quella di non avere pianto mentre mi colpivano per 25 volte con il bastone non volevano neanche che li guardassi negli occhi invece io ho continuato a guardarli non guardare mai negli occhi il pubblico ti crea conflitto e ti distrae diceva il mio maestro prima di scendere in campo per ogni incontro di torneo è vero quando si cambiava campo io guardavo sempre in giro cercavo negli sguardi degli altri qualcuno che mi messe con gli occhi dai puoi farcela però mi distraevo troppo invece quando ho smesso di guardare in giro e su in tribuna e cercavo soprattutto una biondina che mi piaceva tanto e che un po' mi filava ero più concentrato ma il mio avversario lo guardavo sempre negli occhi volevo gelargli il sangue ti faccio male ora gli dicevo con gli occhi ora che il male invece lo fanno a me ste carogne le guardo lo stesso negli occhi vorrei che fosse uno spillo nelle loro pupille una piccola fitta nel cervello per dire loro guarda che razza di schifo di essere umano che sei non hai niente di umano solo una frusta ti consente di esercitare prepotenza alcuni quando ti melano magari si fermano un attimo forse la fitta gli è arrivata brutte carogne schifose sono i più indulgenti altri invece si irritano ma io li gelo con lo sguardo lo stesso non voglio abbassare gli occhi la resa è il miglior servizio che si fa al vincitore e io non voglio arrendermi non l'ho mai fatto devo avere un motivo per reggermi in piedi devo avere qualcuno da odiare è come quando giocavo meglio contro gli sbrufoni così ora resisto di più con i carnefici perché oltre alla mia cara amica fame quella gran troia che va con tutti ho un'altra amica che invece sta solo con me la mia amica rabbia lei sì che è buona mi riempie lo stomaco mi fa rialzare in piedi quando ci frustano mi aiuta e mi accompagna nei giorni tutti difficili e soprattutto non mi fa mai mancare il pensiero che più allevia le mie ferite mi fa sopravvivere fra lo sterco del bugliolo e di pidocchi dei giacigli fatti di paglia e segatura prima o poi ve la farò pagare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti